musica no, è proprio schifo, gli osei respira, schifo previsto il ticket, questo sarà più o meno l'andamento delle modi te la butto lì, lo fai 6-6 in un giro e mezzo, si, mi dirà di buonanotte sarebbe la truccata più grande della mia vita no, 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 la gente lo dice a un anno e un giro e mezzo però 3-6 in un giro e mezzo c'è sempre che non regalano nulla ma, ma... ma poi non ti farmi gemme perché non riesci a farlo ma poi, ma è come è come quelli che dicono eh, non c'è contenuto, ma zì, ma se tutto quello che mettono per ti sarà sempre zero contenuto allora, se fa prima, non si discute nemmeno perché tanto, mettono un boss nuovo mettono una cut paolo, che se ne frega mettono la storia di con il balletto nuovo di Fortnite e che cazzo è che fa care, che se ne frega no, ha fatto che sia tutto così, allora è inutile parlarne, cioè eh, queste animazioni sul merconto guardiamole, te lo dico sai se vince mell vabbè, sono comunque due eh, ma possono essere due bellissime lezze d'anno cioè, raga, vi rendete conto che ci basta tornare un Escalon per aver giocato zi? se esce ora un po' piange perché dovrò vederti saltare un po' di più godo godo ma perché c'è stato un po' di lane dell'Eston Animation? ma che cazzo è? è la maledizione pensavi fosse lui piano sto cazzo di mouse ma tanto al massimo se si rompe è il tuo ma proprio se apri il gioco trovi 300 gemme eh, ma non voglio no, ha detto ti regalano 60 gemme le login sono 300 ma poi tutti i multigrati dei banner extra quello di Escalon c'è, boh, veramente ma lasciateli lamentare, va bene non si regalano stagente quelle che si lamentano sono quelli che sui gran costo non ci giocano perché lo sanno quelli che entrano, giocano due giorni e poi se ne vanno al cazzo fino al prossimo anno o fino a fine anno quindi si vede che abbiamo cambiato account lasciateli parlare lasciamogli dire quello che vogliono e facessero che gli pare basta tipo shaftare potrebbe essere una cosa bella basta ma è come quelli che non giocano mai a game cross e lo scaricano per l'anniversario eh, ma ho shaftato che è un gioco di merda ma che cazzo ma vabbò ma veramente lo sapete va no tanto non c'è U ok può esserci le stesse chance di prima no intanto non esce si si ma poi fixano tranquillo vick tranquillo ma cosa? no del lagga del gioco niente è impossibile di capa neve c'è una squadrita anche quella no erano tutti di prima ahahah solo eleni era qua no erano qui tutti e due ma tu hai detto ci va di listano ancora? per me esce in ogni account in ogni account ho trovato una listano ahahahahah non esce non esce era palese io dico il primo giro nemmeno uno altro scommetto oh però sei alla terza escono in seconda terza ossidio di cappa di me dai ragazzi ho bisogno di un'altra lane la facciamo al 6 non è che a me a me ne dà 280 è l'obiettivo è l'obiettivo ma è l'obiettivo una sega non vedi la chat come è contenta di vederti chattare escono il 2-6 e va benissimo e già mi potete ferma a differenza di tutti quelli che non capiscono nulla e dicono che va fatto per forza al 6 scusate ma va dentro io ero con l'account di fili ho fatto lo showcase era 3-6 favo tutti turno 1 massimo turno 2 e al turno 2 comunque eravano tutti mezzi morti o mezzi di me morti quindi erano vissuti erano mezzo morti sicchè dov'è che serve 6-6 dove lo sa nessuno sei contento? ehm la bomba guarda dove siamo già ma vai vai prima volta ho le gemme buttale intanto ho le gemme buttale poi ho trovato una sega 6-6 sono per il flexo ma a me lo voglio fare perchè mi calmi più g e quindi dove le trovi poi le gemme per il party 2? se lo devi fare 6-6 ma io il discorso mio è che speravo di farlo un po' prima delle gemme finali comunque aspetta ho 4-4 mila gem praticamente va bene? mancano settimane se ne forse fa 4 giri pieni sono 3-6 ma mancano 400 gem eh se in 4 giri lo fai certo eh ma io voglio fare 4 giri se ne lo fossi sei pianti anzi pianti 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 per me questo è un bombay scum tanto è se uno è un interesse sì esatto anzi quella è un raid di SSR e più alti di trovo più inserio tanto escalore non esce c'è faccio questo motivo faccio se più ho fatto tutto molto sciato si ma quanto erano sveini un'altra freya allora due ah signori due lane due melascura verdi due freya rosse vabbè ora mi manca un'altra non mi ricordo se era 6-6 ma anche se non era 6-6 si sti cazzo non ho un coin da buttare questa è la vabbè oggi ho scurato troppo qualche pugnalata ci sta dai un Maddie Monkey chiedermi un Escanor oh vedi dai dai muoviti oh top madonna le posso studi l'Escanor Animation no si mi dobbiamo veramente mi spacca il capone in burro da solo mi scubacco vabbè lì vabbè lì e via è a letto cardio ottimo good è andato a fare il culo entrambi sia l'ottimo che i good oddio vabbè l'emmira dopo Marmas zio eh ma altessa è con quattro di Marmas per fa effetto madonna dì a te quattro se mi avessi avuto intero di Marmas serve oddio 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 l'ultima di me no è la maledizione delle lane ragazzi avrebbe fatto Escanor al 5 colpiti in un giro che vuoi essere stato allora quando hanno ancora un po' di cilio sono andato a fare dai sì però Neo dai ragazzi che merda che merda ma tanto io ho perso l'esperanza dovevo pulare per prima ragazzi si vede quando il giro è quello di Neo dovevo pulare per prima ho scurato in tutti gli acc ragazzi Escanor primo giro garantite basta dai ci sta è il secondo e la voglio tra in una multi dai eccoci qua vedi ammizzona di merda ha vinto sì meritato meritatissimo ha vinto già il sì ragazzi per farti fare almeno tre giri comunque ecco è buono godo sì vabbè ragazzi il giro me è meglio l'abbiamo fatto fare mi farà mi farà mi voglio pulare io i miei account non ho parole comunque c'è due sei dai ci posso stare e se sei il sì anche se pure ho fatto c'è il sei sei ogni copia un giro in meno ora god cioè ti rimancano due in questo giro e l'hai fatto al sei davvero no è già al sei cioè finissi tutte tutte e 3.600 è già al sei questo è di nuovo ogni escala che trovo ora è un giro in meno è meritatissimo per oh mega godo oh due escala in tre multi c'è ripagato lo shaft del giro il primo giro comunque io voglio dire che per ora hai trovato 4 lane nemmeno maldemon king nulla di niente mi basterebbe maldemon king per farlo sarebbe contento ma inizio sti cazzi schippa schippa si si schippa schippa hai solo sfruttato un bug per trovarlo con gol ragazzi io vedo le hack nanas o bannalo le hack proprio le si ma è scritto tipo a c h hack no a c hack a parte l'ultimate chi ci sta dando c'è niente tante lane non tipo 6 extra coin facevo la seconda papà al 6 facevo addi addi ti è giù tutto il go 3 ti è giù però 3 2 3 3 è la combo si è la combo ragazzi godò però fermo bam no 3 2 ragazzi ragazzi is the in the name of the king godò 3 marmas si però no 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 is the reunion ragazzi 3 3 marmas impegnativo godò per un modo di una clic e basta cioè fulla fulla tanto shaft tui la andiamo si fulla no si pure fulla dai ranto escono così ma che fatta mi tengo 1500 100 cembre da parte per favore in the name of the shaft provals eh ma l'hai trovata solamente perché ho contagiato troppo il semafro volevo dire il semafro il mouse no ti sfigate comunque però è diversa ma l'hai trovata non so se sono alzare comunque queste linee vabbè ma questa è un'altra è quella più nuova magari non l'hai alzare no lo sei alzare godo finalmente ma porti sfiga te questa era per infacciarti che io non porti sfiga no ma fa un'altra squadra in questo giro dai spero che ti vada bene un gol giusto no no due gol giusto due gol giusto però ci quanti ugo due ugo due ruin un istim si fa ovvio il sugo una freya ma fa ma cosa che non è alzare mi sa ah che ti cambia fa ma sembra che ero il 5 sai no ci vogliono dire mi interesse darti una copia in più no zi no zi ma no zi tante scappavo abbiamo messi scappavo tanto 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 forse anni fa era meta ora è meta invece bella ragazzi sei bello fosse stato fake out dc e dove il fake out dove sarà mangiato qualcun altro tanto sono al 6 sono al 6 ho iniziato a messa live dove avevo 36 come in feste extra va bene finirò con 55 sicuro però leo attenti te ne basterebbe trovarlo un altro nel prossimo giro così in 33 giri 36 non è né shaft 3 giri 66 tre giri 6 6 norma quello che dovrebbe essere forse da 22 a scuola giro che poi sarebbe un giro sciarca con il giro scurato è un giro scurato questo è scurato che il posto voto un altro ascolto un'altra grande squadra che no è normale non è sì vabbè capito però se fai la media sono un primo giro uno è garantito un è garantito nel garanti in possesso 3 quindi c'era il 4 se trovassimo un altro escono qui e fatto boh no però impegnative 3 dianca si è dai sono utili cogliere dell'ottimo nell'ottimo coin shop ora è migliorato il concio però a quel punto avresti poter quanto c'era di tutti all'uno sai non mi ricordo perché avessi merlin al 6 avresti tutti al 6 non negoziate negozi hanno fatto un giro solo mi sembra adesso perché io vedo lo skip rosso vedo animazioni che potrebbero essere che può prescindere si fa tutto per il video c'è già le cose degli altri account no è stato il mio gli altri account e ci sono due escalon di fila no qui ci sono due escalon di fila nel secondo giro no non erano proprio di fila si erano molti di mezzo vota ma cazzo e nell'altro erano proprio di fila erano proprio back to back e quando sono arrivati magari ci faccio un reel con quello però su youtube ci metto le mie pulpi credo volevo dire mia quel discorso e come quando la mente c'è quale del primo giro ci metti tutto il primo giro con le lane e poi sulle lane 2 giri volate a sì non trovando ssr no che due video anche se dovrei fare il giro dei punti iscritti però poi se c'è fermo ma vediamo adesso magari non si vede da vent'anni nel demo king animation ma schifta dai hanno migliorato le animazioni dell'adio nella pancia ballonzo ragazzi i fondi di grand cross ma ragazzi la dk non esiste più era cancellata era cancellata la dk la dk l'ha cancellata rendi conto che hai trovato lo stesso numero di alt-lit di entrambi gli alt-lit oh una multi bella devi essere fiero di te di questo tuo terzo giro perché sarà spero l'ultimo quanto no se fai quattro giri rido come sta andando ci basta trovare altro escamore per finire quel con il terzo giro farò 6 6 se no ci tocca fare quattro e col quarto già diventa un po sciato però c'è chi non ha fatto i cinque non è che se qualcuno ha fatto peggio allora ti hai scolato adesso non si fa così tre salmon tre salmon significa sfiga adesso è quattro sei sì ma siamo a metà del terzo giro il prossimo 1 con garanti 266 però prima metto vallone hanno portato due escamore l'ultima volta hanno portato due escamore dai trovamone ultimo dai su un po' inizio c'erano gli occhi rossi che fate con gli occhi scusa ma me lo sono sempre chiesto chi è la persona accanto a te uno mod ken ken wolf c'è il demon king no zii e poi benissimo chi è quello lì è ken turi taizuda zii taizuki porta fortuna eh dai un escadur di merida su l'ultima e tu r e via uno gli skip rossi non esistono più non esistono soltamente gli skip rossi perché tanto non escono lo stesso non sto guardando non c'è nello skip rossi ecco l'ora ci sarà uno skip rossi e non si sta dicendo maschile devi essere fiori di te gg ssr c'è la sua più grande probabilità di trovare un escadur freddo te c'è detto un po ma è schifo subito mare ma si 2 skip rossi di fila escono signora un mel ci starebbe tantissimo ma un elen di più oh 4 elen lo avresti già al 6 questo è stato escono l'avresti già al 6 che poi in realtà nel secondo e l'ultimo giro appena stavano escono ci firmiamo c'è magari c'è prima di fronte pari no oh escono l'ultimo ma fermo ma è lo spi... Dio di mio ora voglio prenderlo eh se lo fa no quante lane sono uscite siamo a 6 lane azietta ferma un po' madonna che 3-4 ruin e la ruina dei film la catastrofe poi sono anche a Ypsilon no i 4 ruin quindi è ma escono e il recappo fa finta ma questa cosa io cioè oh eccola qui suole alzurno e c'è un cazzo ah spero ci sale conoscendo mazze il demon king non esce in auto account direi che insomma si può schifare quindi è schifo vedi oh il demon king è proprio lui questo è merlin demon king che stai si fa così schifo che si è coperta al volto così non vede quanto fa schifo oh eccolo qua l'amoscello un cazzo di niente e via e quindi si inizia il quarto giro e si va allo shaft ragazzi e invece poi li volevo lo lin e con lo lin eh che poi è bellissimo tito per favore c'è da lo Sven schifo non schifo io ho perso le speranze ragazzi oh esamo al terzo ban questi sono stati 3 escador ultimetere multi per finire in questo giro tanto andare a dire merda come sempre oh vedi escador è sparito anche lui eh ma schifo un po' siiii sii cazzo questa era la di campanile action sei sei in 3g e poi ti stai sfruttando di aver fatto un giro normale ma è chiaro vai me lo ha osculato tutti ora l'ultimo ultimo40 se esce eccolo qua eccolo qua è lui godo mille passaggi e mette così da parte caro è verissimo perché hanno oscurato tutti anche io aspetta aspetta vincenzino si 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 sfoglia che comunque ho aspetta 5 6 in su no io voglio un diritto che mi riserva di nascita leo l'avevi al 2 devi ringraziarmi l'altra è già al 6 fermo fammi andare a fare questa cosa si si faccio cercare il 6 e chiudiamo la stream che da poco se non mi bussino in camera mi asfaltano aspetta facciamo uno screen al volo che si mette in qui e alè primo fest della mia vita che fa fest che fosse 6 al divano ecco ecco